3, 2, 1 Le grano sub non ci sono sconti, non lo so Dopo che ti do verità, grazie a te che hai sempre il follow Del minuto brother Grazie, vi ricordo ancora una volta, sconto per chi vuole fare la sub 3, 2, 1 Questa è Multiplay Dog Trio Daie Daie boys Daie Like su YouTube Condividete, iscrivetevi al canale boys E andiamo subito a bomba Più giallo Spara spezzata A posto, è una merda, si inizia bene ragazzi, si inizia una bomba Io sono sicuro che te lo vedo solamente garantito Te lo vedo solamente garantito, me lo sento Ragazzi, quando mi sento le cose È perché è così, ciao YouTube Ovviamente Ragazzi, quando mi sento le cose Voi dovete sapere che sono un cazzo di veggente Di giallo Grazie mille, Zava Bellosti, benvenuto brother Benvenuto Grazie Bellosti, benvenuto Da mezz'ora senza chat E va bene Grazie Grazie Mono Qui non penso quanto ci sia lei Proprio niente Proprio zero Ciao Shaftina Skip No, non Non schippo Ragazzi, se non mi chiedete di schippare Grazie mille a George per il follow Benvenuto brother Non trovi nulla Resente del gioco E repulla Ma su questo gioco Non ci credo tanto a ste meccane Ma anche su blocca Non è che ci credo più di tanto Shaftina Regizia Regà Regà Io Io lo sapevo Che tanto il Santino E me lo dovevo Io mi sono portato dietro Apposta per fare Live pool Apposta per le divinità Egizia e le bestie sacre Se non ci credete Vado a prendervele Regà Io me le sono portate dietro Apposta per farle da Santino Ve lo giuro Ragazzi Me le sono portate dietro Apposta Per Il Santino Ve lo giuro Ve lo portate anche la parrucca Di Elisabeth Ve lo ho detto Boh Intanto non uscirà male Nelisabeth In questi 10 giorni Quindi Che cazzo la porta a fare Elisabeth Non ci sarà mai fake out Regà Affidatevi Mai fake out Ormai Il fake out Ci ho perso proprio la speranza Ci ho perso proprio la speranza Comunque vi faccio un piccolo spoiler Della copertina Del video di domani Devo cambiare un attimo Schermata Poi dobbiamo Torniamo subito al pool Vi faccio vedere al volo Eccoci qua boys Guardate La copertina Un piccolo spoiler Del video di domani Grazie mille L'amper per il forno Un attimo solo Voglio che faccio una cosa Ok Perfetto Guardate regà Ditemi Se è uno spoiler Da fare ovviamente Della copertina Del video di domani Piccolo spoiler Regà Filatevi Questo è uno spoiler Del video di domani Ragazzi Immaginate Io dentro la macchina Quella macchina piena Di diamond E La capretta E camilla Regà Mi dissocio Andiamo game Le penso Le penso solo io Ste cose Porco Due Va Le penso solo io Ste cose Le penso solo io Ste cose Grazie mille Lili per il forno Benvenuto brother E' geniale most E' geniale Hanno fatto quella pubblicità Apposta per me Cazzo Andiamo Andiamo Ma come ma che significa Cristiano Come è la pubblicità Della macchina Mi sembra della Volkswagen Che c'è la capretta Di montagna Che indietreggia Di fronte All'auto E lei deve indietreggiare Trasformato ovviamente Di fronte a me Con tantissime gemme E' una cosa bellissima Ce l'ho pensato Quando l'hanno fatto Il personaggio Questo bisogna Dalla Leonas E' apposta per lui Dai regà Dai E' super geniale Super geniale Non potete dirmi niente E' arte Ma è artissima Regà E' artissima Non bannatemi Perché sto scherzando Per la copertina No Mi dissocio Mi dissocio No Dimmi che il guidatore E' un sardo E' un esame in top Ma non lo so Luca Comunque Marmas Ragazzi l'ho predicato Nel video punti oggi Bellissimo Tra l'altro Non so se il Zeyer66 Del best of the nature ZFDR Ovviamente FDR Ci sai Zeyer In chat Non lo so E' sparito Dalla storia Ad un altro 35 sapere E' sparito Dalla storia Non lo so E' sparito Bella sta multa Di merda Mi ricordano quelle Fatte su Rudo Seal Mi ricordano quelle Questa multa Ragazzi E' dedicata A tutti coloro Che In questa live Hanno followato E a tutti coloro Che in questa live Si sono subati Quindi per loro solamente And Udn Per ora Spark e basta Counter Un sr Fleet to pay Esatto Sono fermate Ste gem Sono fermate Si ma voi sono fermate Ma voglia Si sono le coppe Le coppe Comunque da quando sei rosso Potresti giocare Nel mio modello Vabbè Ma comunque E' la camera Che fa rosso Ragazzi Perché sono un po' Brunzato Non so Brunzato Sono proprio rosso Perché ho preso L'impegno Per questo Ma che mi voglio Bruciare Ragazzi Mi viene da Per il follow Mi voglio proprio Bruciare al sole Del tipo Mi metto al sole Così E mi voglio Bruciare Come Voglio diventare Una marmotta Non lo so E pesa sta voglia E' mono Bene Bene E' mono E' mono E' l'ultimo E' il primo E' il primo Va a posto Vai E' il primo Ti ha fatto il resab Ragazzi Ti ha fatto il resab 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 Chi 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 ha fatto il resab Chi ha fatto il resab Chi ha fatto il resab Eh 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 Chi ha fatto il resab Chi ha fatto il resab E' che l'ha fatto il resab grazie che alla fine per i due mesi grazie mille no raga mi manda un belva a me grazie mille Blackrock per il forum benvenuto brother raga subito clip Zanna e raga ora si punta la cia smamo sei bella Camilla mi manda un belva a me mi manda un belva prossima molti boys dai prossima molti dammi Camilla qua portate lo schifo rosso crocino e cielo crocino e cielo marchio un po finalmente un'animazione diversa dallo schifo niente country va bene però c'è un ssr perfetto fenomeno male meno male non c'è nemmeno il il coso non c'è nemmeno il o è Merlin o Dian aspetta no cazzo no perché questo non lo sapevo questo non lo sapevo del del Merlin o Dian vabbè potrebbero esserci fake out oppure c'è migliorata ssr è un sin dai migliorata ssr dai su le cosi significano sin e non lo sapevo questo quindi la verità magari c'è per l'sr di migliorata no mi sa di no mi sa di no 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 è mono Camilla vabbè mks portami fortuna cazzo portami fortuna portami fortuna da dimmi che c'è migliorata ssr migliorata ssr dai questa Merlin per ora tutto bene Cristone per ora tutto bene per ora per ora per ora che schifo però c'è qua già sai che c'è il coso vabbè rip eccola qua ma le rocce di banno le rocce di banno ma le rocce di banno ma la porto c'è al 6 qua c'è al 5 escono ma regà non vedo il sole nel cielo dall'ire di dio non lo vedo dalla roba dei tempi regà ma dai non vedo escano l'animation dalla roba dei tempi ma la musica è bassa ragazzi la sentite lo devo alzare un pelino io non l'ho mai visto per me volevo shafta ragazzi mi perde pure mamma mia mamma mia va bene così io non l'ho mai vista zanove nell'oscurità sì sì non c'è il sole lui non ha il sole non l'ha mai visto il sole no no va bene la musica perfetto perfetto allora per me oggi fai cammini a 3 su 6 almeno ma speriamo mancano ancora tre multi dove una è garantita quindi minimo c'è al 2 però possiamo portarla anche anche spero al 4 ci sarebbe una fortuna se facessi le multi di zawa per chi non sa che multi ha fatto ha fatto una multi con 6 ssr tra cui 3 e ripeto 3 camilla nella multi 6 ssr con 3 camilla nella multi non dico nient'altro basta escono abbandonata la chat lol 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 3 quasi meno 2 e al resetto e dammelo sto cazzo di fake out dammelo sto cazzo di fake out forza voglio il fake out voglio il fake out out ovviamente il fake out incredibile impressionantissimo comunque 4 su 6 è una bomba 5% da capire per debuff o buff tolgo tolgo assurdo no io lo voglio almeno fatto su 6 ma perché ultimamente se un pg è garantito in questo modo io ci è facile fare se su 6 perché bene o male basta fare i giri te ne becchi anche se shaft è alla grada di dio che un po' te la fai se su 6 per forza perché è garantita però di base cioè se in questi prossimi ultimi ne trovassi anche soltanto una a parte per la garantita del resto sarebbe decisamente snox decisamente decisamente snox riniziamo il giro anche perché sono 100 mb cioè fanno abbastanza comodo dai multi ragazzi mandatemi la buona voglio in chat di giannoprey giannoprey chi manda big shaft shaft è lui stesso ve lo dico ok no no ma che cazzo sono ste multi porco 2 ma dai ragazzi ma che cazzo sono shaft ex ho capito shaft ex è sporco 2 madre di dio madre di dio di dio di madre di madre di dio cazzo però trovo gli sr solo dove c'è il garantito è impressionante intanto voglio vedere anche in stilio quante c'è però dettagli punto schermativo disco ci sono le comande ragazzi per tutte ste robe tranquillo che che la qualità non può peggiorare ma ti voglio bene lol lol dai ragazzi dai ultime ma votate per lo skip è vero questa multi votate per lo skip è vero ma ti rendi conto 3sr ti rendi conto 3sr ma porco 2 lo shaft dance da milenville però lei è bellissima dai non ne so vedi in cazzo è bellissima lei è bellissima ora voi che siete su youtube faccio questa piccola questa piccola clip di vero mi raccomando porco 2 spaccate sto cazzo di like via subito multi summer conto su di te poi lo scendolo in su anche voi su twitch poi lo scendolo in su daglie allora ok ehi ciao peppo pomeriggio cucciolo di fogna di uno mirabasco a lost vein senta me mi vuoi far scurare vero mi vuoi far scurare dimmi che mi vuoi far scurare vero io so che mi vuoi far scurare io so che mi vuoi far scurare amore mio io lo so che mi vuoi far scurare un'altra bella camilla camilla cabello dai su conto su di te conto su di te conto su di te in mezzo agli air vigila la capoletta dai su su in mezzo agli air vigila la capoletta dai Che sarà mai È mono, me lo sento in mono È mono, raga È mono Ti do il potere, Gianji Se c'è Camila, ti giuro, ti metto il bip a fine live Se c'è Camila, ti metto il bip Gianji, hai il bip A posto, raga A posto C'è altri C'è altri A posto Raga Raga Fine 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 3 su 6 Guarda, manca solamente ora, finiamo il giro È a cavallo Dai, boys Allora, finiamo Ah, ma Ok, no Def Ma quando era fatto Def Prime? Allora, l'aveva già fatto Def, o no? Sì, l'aveva fatto 520 Ma meno male, l'aveva state da qualche parte dovevo busculare, cazzo Meno male, cazzo Cioè Meno male Porco 2 Porco 2 Sì, sì, ma per me No Mi sa che segretai il legno Mi sa che segretai il legno Dove guardiamo? Gianji, si fa il bip Domani ti trovi il bip in chat Domani te lo trovi Domani te lo trovi 100-100 È vero, è arrivato anche Peppo e ci ha fatto sculare, eh, raga Però non posso dare a tutti, cazzo Non posso dare a tutti Ah, facciamo una cosa In questi ultimi 5 minuti Drive Ci sono ancora quei 5 minuti che chi fa la sub diventa VIP Quindi A partire da ora Sono le 17.13 Alle 17.18 Finisce Quindi chi vuole fare la sub diventare VIP Ora, raga È il momento Raga, diventate VIP Dai 20% di sconto per i sub, ragazzi Per chi vuole fare la sub a pagamento Amazon Prime è sempre gratis C'è altre Al Tre Cazzo Sì Comunque ragazzi vuole, dai Grazie tantissimo per essere stati qua con me Io davvero Vi ripeto Domani Video su YouTube Noi Ci vediamo domani Mi ricordo è un meno scelto Una scelta solamente per oggi Del video summer Quindi mi dispiace 5,7,4,2,10 Ripperotti Ho pullato Ho fatto un giro completo E ho iniziato Anche 31 gen Ragazzi Da me È la nostra capretta di montagna Che diventa La capretta più bella del mondo A dire il vero Non possiamo zoomarla così Che è RIP Adesso è un po' un piacere Non possiamo zoomarla così Non possiamo manco girarla Vabbè È RIP Ragazzi Noi ci vediamo domani Grazie davvero a tutti Buona giornata Vi ricordo Moderatori Punta scelma tv video in chat Se non avete visto i video youtube di oggi Fate punta scelma tv youtube Direttamente Se l'avete aggiornato Punta scelma tv video Sono youtube Ragazzi Grazie davvero a tutti Noi ci vediamo domani con il video E con le live Sempre alle 16 in punto Grazie davvero a tutti E let's go boys Noi ci vediamoci Noi ci vediamoci Grazie.